Il procuratore Giordano dopo 5 anni lascia il Tribunale di Caltagirone, 5 anni che sono stati un impegno notevole e gravoso sulle sue spalle proprio per gestire anche questo passaggio della riforma dei tribunali minori. Qual è il ricordo più importante e come sta lasciando questo territorio? Ma guardi, io credo che questi 5 anni abbiano dimostrato che gli uffici giudiziari di Caltagirone costituiscono un presidio assolutamente imprescindibile e questo si sapeva, però averlo visto riconosciuto in un disposto di legge è veramente una soddisfazione perché al di là della dimensione che è piccola, medio, piccola eccetera, però indubbiamente la posizione geografica, il fatto che si trovi in questo ufficio sia nella procura che il tribunale, che si trovi in un territorio in cui si incrociano varie province con tutte le problematiche eccetera e questo dimostra che si tratta di un ufficio giudiziario assolutamente imprescindibile e strategico. I ricordi sono tanti di questi anni, sono veramente tanti. Io personalmente mi sono dedicato moltissimo al lavoro, al miglioramento delle condizioni di lavoro, all'efficienza della procura, ai rapporti con la Polizia giudiziaria, ad ascoltare le esigenze del territorio, non spetta a me dire se sono riuscito, quello che posso dire è che io mi sono dedicato a questo e l'ho fatto con convinzione, con spirito di servizio. Nello stesso tempo credo di avere avuto la possibilità di lavorare con persone veramente meravigliose, sia sul piano del personale amministrativo, i più stretti collaboratori, i miei colleghi, tanti colleghi e colleghe che si sono succeduti in questi anni e veramente con cui si è instaurato un bellissimo rapporto professionale e quindi i ricordi sono tanti e insomma la commozione c'è addirittura, ma credo che alla fine per quanto mi riguarda il bilancio è positivo. Poi naturalmente aspetta ad altri stabilire se anche per loro la mia gestione tra virgolette è stata positiva oppure no. Più volte il suo lavoro è finito agli onori della cronaca nazionale, per esempio come la vicenda del MUS. Sì, beh certo, purtroppo il nostro lavoro, tutto il lavoro delle procure, del penale è un lavoro che si svolge in un proscenio in cui siamo proiettati e poi il diritto di informazione è importantissimo. Ecco sì, certamente, quello è stato anche un altro momento veramente importante in cui naturalmente la procura e anche gli uffici giudiziari di Caltagirone sono stati chiamati a svolgere un compito che bene o male hanno svolto. Ancora è tutto subiudice perché non sappiamo quale sarà l'esito finale, però ecco questo sta a dimostrare che anche un ufficio piccolo come questo ha dei problemi grandissimi. Certo, ora vi toccherà un'altra emergenza, l'emergenza MUS, l'emergenza ambientale della provincia di Siracusa. Sì, beh certo, ci sono altri problemi, altri profili indubbiamente, però diciamo la mia per carattere personale e per l'esperienza sono sempre stato, diciamo, proteso a lavorare con buona lena e quindi anche nel nuovo ufficio certamente farò questa cosa. Anche noi sentiamo bisogno intanto di ringraziarla per il lavoro svolto e per fargli i migliori auguri per il nuovo incarico che sicuramente farà ai massimi livelli come abituato da sempre. Auguriamo, grazie, grazie.